Questo verbo in inglese si sente molto molto spesso, viene usato spesso, invece il corrispettivo in italiano secondo me viene usato un po' meno, almeno da me viene usato molto molto meno. Il verbo in italiano è prosperare, prosperare. Allora sì, certo, si usa, è una parola italiana, quello che volete, ci sarà la gente che lo usa tutti i giorni, ci sarà chi lo usa una volta a settimana, io lo userò una volta all'anno, ok? In inglese si dice to thrive, to thrive, to thrive, to thrive, to thrive, democracy cannot thrive in such a place, la democrazia non può prosperare in un posto del genere. Quello del such a place, quello del such è un altro video, magari lo faccio dopo. It requires perfect conditions to thrive, quindi richiede delle condizioni perfette per prosperare, ok? E se non ci sono quelle condizioni non prospera o prospera, come si dice? Attenzione, oltre a prosperare vuol dire anche svilupparsi, crescere a volte, per esempio nel caso delle piante vuol dire anche attechire al suolo per esempio. Come al solito ricordatevi che dove c'è una H in inglese si pronuncia di solito, quindi non è to thrive ma è to thrive, lo so, è difficile, difficile anche per me ragazzi, però va detta. Come al solito ricordatevi che dove c'è una Grazie a tutti.